Ci occupiamo di un argomento toccante, ma importantissimo, perché pochi giorni fa, in settimana, si è ricordata la giornata mondiale contro il cancro infantile. Ci sono disparità all'accesso alle diagnosi, servono risorse per sviluppare farmaci specifici e in tutto il mondo la giornata è dedicata ad una riflessione importante, perché poi tutto questo deve trasformarsi in azioni concrete. Facciamo il punto anche sulla situazione inevitabilmente legata all'accesso agli ospedali che si è modificata a causa della pandemia con la dottoressa Antonella Viola, immunologa e divulgatrice scientifica. Buongiorno dottoressa e benvenuta. Buongiorno dottoressa, io vorrei partire dicendo che, allora si dice sempre in questi casi che la ricerca è fondamentale, la ricerca è la ricerca ed è verissimo e forse vorrei partire proprio da qui, perché proprio grazie alla ricerca, centri di diagnosi come il suo, abbiamo fatto dei passi davvero enormi in questo campo. Vogliamo partire proprio da qui? Sì, allora la ricerca è fondamentale, pensate che quando non c'erano farmaci, non c'era chemioterapia, non c'erano i trapianti di midollo, non c'erano le terapie innovative, avere una diagnosi per un bambino di tumore era praticamente una condanna a morte, la sopravvivenza era bassissima, siamo saliti lentamente da un 20% in su, ma oggi siamo arrivati a più dell'80%, siamo intorno all'85% dei bambini che riescono a sopravvivere. Questo è stato grazie a cosa? Da un lato una diagnostica avanzata, come quella che viene effettuata nell'Istituto di Ricerca Pediatrica della Fondazione di Città della Speranza, grazie alla collaborazione naturalmente con l'agriandospedale di Padova e dare una diagnosi precoce ai bambini vuol dire, è precisa, vuol dire indirizzarli immediatamente verso un protocollo terapeutico e questo è il motivo per cui viene centralizzata. Noi riceviamo ogni giorno i prelievi che vengono fatti a questi bambini a cui viene diagnosticata appunto una malattia tumorale, che vengono inviati da noi e dove noi possiamo affinare questa ricerca e questa diagnosi. Quindi questa procedura di perfezionamento della diagnosi permette poi ai medici di indirizzare il bambino verso il miglior percorso terapeutico e quindi verso la guarigione. Dottoressa, ad oggi quali sono le terapie che maggiormente riescono a fare la differenza? Ovviamente tutte, nel senso che è l'insieme delle conoscenze che si sono accumulate che ha permesso di arrivare a questa sopravvivenza, dicevo, intorno all'85%. Quindi serve tutto, serve la chemioterapia, serve il trapianto, serve la radioterapia a seconda del tipo di tumore. Oggi naturalmente si sta spingendo per curare quei bambini che ancora non riusciamo a salvare, nonostante tutte queste conoscenze e tutti questi farmaci che abbiamo a disposizione. E in questo caso si sta lavorando molto, con grande speranza, verso l'immunoterapia dei tumori. Quindi l'idea è di utilizzare il sistema immunitario per eliminare le cellule tumorali che non si possono eliminare attraverso una chemioterapia classica. Quindi c'è una grande fiducia della comunità scientifica verso questo tipo di approccio. Ecco, dottoressa Viola, lo dicevamo in apertura, questi due anni di pandemia, lo abbiamo sentito da più parti, hanno costretto molte persone a rinunciare alle cure, mi riferisco agli adulti ad esempio, a rinviare magari degli interventi che avrebbero potuto magari cambiare le sorti della vita di queste persone. Per i bambini è stato lo stesso? C'è stato un arresto delle diagnosi a causa della pandemia? No, non è lo stesso per una serie di ragioni. Prima di tutto parliamo di numeri estremamente diversi. Se lei considera che più o meno in Italia ci sono ogni anno 380.000 nuove diagnosi di cancro per quanto riguarda la fascia bambini e adolescenti, quindi fino ai 19 anni, siamo intorno ai 2000, poco di più. Quindi per fortuna sono numeri estremamente diversi. La seconda ragione è che mentre la diagnostica, cioè gli screening, gli screening di controllo sono fondamentali per la prevenzione del cancro dell'adulto, pensiamo al tumore della mammella con la mammografia, il pap test per il tumore all'utero o la colonoscopia per il colon, questi sono fondamentali e questi sono stati rallentati, per cui sicuramente sono state perse delle diagnosi che arriveranno purtroppo nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Nel caso del bambino non funziona così, cioè non c'è uno screening che viene fatto per fare una diagnosi precoce. C'è una differenza, ecco sì. Tra l'altro noi speriamo che i dati che leggevamo in apertura insomma su come la pandemia in realtà stia, per fortuna la situazione del nostro paese stia andando meglio, possono migliorare anche questo aspetto, cioè le diagnosi appunto fatte in ritardo in causa pandemia. Dottoressa Viola, grazie per essere stata insieme a noi, torneremo a sentirci sicuramente presto. Un grande in bocca al lupo a lei, al suo centro per il vostro lavoro. Grazie, grazie a voi.